Ciao a tutti, sono Marco del sito vidlab.it questa è la sesta lezione sul PHP quest'oggi andremo a vedere le funzioni e qual è il loro compito all'interno dei nostri codici per prima cosa occorre dire a cosa servono semplicemente a prendere una porzione del nostro codice che riutilizzeremo più volte all'interno di uno stesso progetto o anche all'interno di più siti quindi diciamo così creando un codice portabile che appunto ci permetta di eseguire una determinata operazione qualora ne avessimo necessità allora vediamo un attimino in questo caso ripartiamo dal ciclo for che abbiamo visto anche all'interno della quinta lezione in questo caso lanciando lo script si manifestava semplicemente a video la scrittura del valore della variabile quindi da 1 a 10 perché veniva incrementata di 1 in questo caso vogliamo fare la stessa identica cosa però aggiungendo un esempio con la funzione quindi andiamo ad aggiungere la funzione e la chiamiamo elenco quindi usiamo la parola function nome della funzione che appunto è elenco aperta e chiusa d'onda aperta e chiusa graffa benissimo qui possiamo scrivere ecco sono il numero puntini puntini se io adesso vado ad aggiungere questa funzione ok perfetto quindi avremo sono il numero 1 sono il numero 2 sono il numero 3 e così via quindi potete vedere che invece di scrivere qui all'interno di una funzione sono il numero 1 sono il numero 2 più volte avremo semplicemente aggiunto una funzione che lo fa in automatico però diciamo che in questo modo sì il risultato è lo stesso però di quello che otterremo però comunque c'è un modo migliore per fare tutto questo possiamo infatti passare alla nostra funzione un valore o più valori in questo caso decidiamo di passare il valore x quindi cancelliamo questa riga e facciamo gestire tutto quanto dalla nostra funzione quindi a questo caso noi andiamo ad aggiungere un parametro alla nostra funzione che chiameremo x o nel nostro caso numero quindi perché qui comunque il nome può cambiare all'interno del parametro non è un problema è soltanto il nome che andremo ad utilizzare all'interno della funzione sarà visibile soltanto all'interno della funzione stessa quindi vediamo un attimino aggiungiamo sono il numero alla fine inseriamo la variabile numero quindi avremo il cicloforo che ci cilla per 10 volte il contatore x incrementandolo e chiama per 10 volte la funzione elenco passando il valore di x a sua volta la funzione riceve il valore di x e lo mette all'interno di una variabile chiamata numero e scrive a video sono il numero e stampa il valore della nostra variabile torniamo nuovamente al browser però prima aggiungiamo un trattino davanti per vedere la differenza poi qui altrimenti non sarebbe cambiato nulla aggiorno ecco qui che nella nostra funzione ci scrive più volte sono il numero 1 sono il numero 2 in automatico come vedete viene passata la x in questo modo e viene gestita dalla funzione se io scrivo qui all'esterno intanto aggiungiamo per una migliore visualizzazione il solito tag e alla fine voglio aggiungere la scritta numero benissimo in questo modo andiamo a scrivere anche successivamente per una volta soltanto il valore del numero però perché vi sto facendo questo esempio perché essendo un numero contenuto all'esterno della funzione vedrete che non verrà stampato nulla qui aggiungiamo solo il numero esterno vedete che verrà stampato solo il numero esterno ma non verrà stampato il valore del numero perché il numero è dichiarato solo all'interno della funzione e quindi non visibile all'esterno ora andiamo nuovamente al browser e vediamo cosa è cambiato vedete è stato elencato dalla funzione da 1 a 10 sono il numero esterno ma non ci mette qui il nostro numero per il semplice fatto che non è visibile qui entriamo in un secondo argomento la visibilità delle variabili all'interno di una funzione quindi per prima cosa andiamo ad aggiungere una funzione una variabile esterna chiamata numero al numero ci mettiamo il valore 5 chiamo una funzione chiamata stampa mettiamo soltanto che modifico il codice e poi vi spiego riga per riga ho inizializzato due volte una stessa variabile una volta all'interno della funzione stampa una volta all'esterno della funzione stampa il nostro codice che cosa fa? assegna semplicemente all'esterno della funzione un valore alla variabile numero e chiama la funzione stampa che a sua volta assegna un altro valore alla variabile numero e lo stampa video in questo caso vi faccio un attimino il risultato appunto viene mostrato il 10 perché viene mostrato il 10? perché comunque la funzione stampa il numero contenuto all'interno anche se io avessi chiamato questa variabile numero 2 e avessi stampato il numero 2 rilanciandola all'interno del browser il risultato sarebbe stato nullo perché? perché non ha visibilità se io invece avessi fatto di questo global numero e poi successivamente eco numero e avessi cambiato nuovamente il nome di questa variabile rilanciandola all'interno del nostro browser avremmo ottenuto il valore 5 perché? perché questa parola qui davanti questo termine global fa capire al PHP di prendere la variabile globale quindi la variabile contenuta all'esterno della funzione nel nostro codice attenzione però perché in questo modo facendo una modifica alla variabile numero e stampandolo nuovamente anche all'esterno della nostra funzione vedete che anche all'esterno è stato modificato il valore quindi viene stampato 10 perché giustamente l'ha modificato all'interno della funzione ma avendo messo il global anche all'esterno cambia il valore quindi non sarà più 5 ma sarà 10 perché è stato assegnato all'interno della funzione attenzione a questa cosa perché è molto importante rischiate di creare confusione poi all'interno dei vostri codici si consiglia sempre quando possibile di evitare accuratamente l'utilizzo della parola global tranne proprio in casi in cui sia necessaria un altro termine speciale che viene il nostro aiuto per l'uso delle variabili all'interno delle funzioni è la parola static static non fa altro che far sì che il valore che noi andremo ad assegnare alla nostra variabile sia memorizzato all'interno della funzione anche in più chiamate allora vediamo un attimino come funziona cancelliamo questa parte quindi a x è inferiore uguale a 10 x più più chiamiamo la funzione stampa benissimo in questo caso cosa facciamo noi? realizziamo il nostro solito ciclo for e diciamo però di stampare tramite la nostra funzione il contenuto della nostra variabile numero a video dopo averlo stampato lo deve anche incrementare come vedete in questo caso non sto passando come nel precedente esempio il valore x alla funzione che quindi ovviamente lui recuperava e stampava a video ma bensì mi sto appoggiando ad una variabile interna alla funzione è visibile solo internamente alla funzione a cui ho segnato la parola static l'elemento static quindi in questo caso se noi andiamo a stampare a video verrà stampato il nostro numero 0 con la prima chiamata con la seconda chiamata perché essendo un ciclo farà 10 chiamate con la seconda chiamata la nostra funzione però si ricorderà di aver incrementato di 1 e quindi la nostra variabile numero avrà valore 1 successivamente 2 e così via quindi in questo caso avremo stampate dei valori da 0 a 9 perché appunto sarà 10 volte il ciclo quindi partendo da 0 più 10 volte arriviamo a 9 torniamo un'altra volta al nostro browser un attimo soltanto che volevo dividere le righe lanciamola nel browser perfetto in questo caso invece non ce l'ha mantenuto vediamo un attimino perfetto ho sbagliato io nella dichiarazione della variabile ecco qui abbiamo i valori da 0 a 9 sì è importante che l'assegnazione della variabile sia effettuata sulla stessa riga diciamo questo vi ricordo un attimino cosa significa questo static semplicemente che ogni volta che noi richiamiamo questa funzione la funzione stessa si ricordi il punto di partenza dello 0 ma lo conservi quindi se l'ultima volta che noi siamo usciti dalla funzione il valore valeva 1 perché lo abbiamo incrementato al successivo richiamo da parte del ciclo la funzione qui non sarà più riassegnato 0 alla variabile numero ma bensì sarà mantenuto il valore 1 e quindi stamperà video 1 poi verrà incrementato nuovamente al successivo richiamo verrà stampato 2 e così via ed è per questo motivo che alla fine abbiamo questo risultato per le funzioni è tutto vi ringrazio per avermi seguito questo era il sesto video corso e vi lascio il nostro sito dove potete vedere tutti quanti i nostri corsi www.videlab.it ciao e grazie